L'invio per l'approvazione del piano strategico per il commercio, sia il regolamento per la gestione dei servizi comunali, un documento votato all'unanimità per scongiurare il trasferimento della sede Leonardo del quartiere Paolo VI a Grottaglie. Sono stati punti focali del Consiglio Comunale di Taranto che ha visto l'assenza del sindaco Melucci. Il nuovo piano strategico del commercio in stand-by da oltre un anno dovrà aspettare ancora. Lancia avanzato dubbi su un punto riguardante le strutture di media dimensione. La maggioranza su proposta del Presidente della Commissione Attività Produttive, Lomuzio, ha approvato un emendamento per superare l'ostacolo, ma il Consigliere Stellato, sempre in ambito maggioranza, ha poi proposto il rinvio approvato per studiare meglio la questione. Al posto del previsto monotematico sulla questione Leonardo, proposto dal Consigliere Fiusco, il Consiglio ha votato all'unanimità un documento che chiede al sindaco Melucci di avviare le interlocuzioni necessarie per evitare che la sede di Taranto Paolo VI venga spostata a Grottaglie. Non possiamo lasciare questo sito così abbandonato, perché non si capisce anche la destinazione futura di questo sito, e non possiamo che 170 persone, tarantine per la maggior parte, possano trasferirsi, seppur a due passi, però è sempre un'altra città, nel sito di Grottaglie. Ufficializzati infine alcuni passaggi di gruppo, contrario passa al PD e ne diventa capogruppo, De Martino e Papa fondano i democratici ionici, Bosniaku entra nel gruppo misto di maggioranza, Mignolo e Lumuzio costituiscono Taranto attiva.